Jean-Claude Van Damme, cintura nera di karate, nonché famosissimo attore, questa volta è un grande testimonial per Volvo Truck, si esibisce in qualcosa di veramente particolare. Non parliamo dei suoi film in cui deve abbattere i soliti nemici, ma parliamo di una spettacolare spaccata, spaccata definita epica, concentratissimo e sospeso tra due camion che viaggiano in retromarcia, i suoi piedi poggiano sugli specchi laterali, la sua faccia è seria ma rilassata, ecco che inizia lo spettacolo. Uno dei due tir si sposta lentamente verso sinistra fino ad ottenere una spaccata perfetta da parte di questo attore che è degno dei migliori stuntment. La scena è molto semplice ed ha l'obiettivo di dimostrare la capacità di precisione che la Volvo ha voluto dare ai suoi camion. Van Damme è veramente bravo. La scena che vediamo è una scena che si muove lentamente ma suscita nello spettatore molta apprezzione e stupore appunto per questa epica evoluzione. Se volete vedere il video originale state davanti ad un computer cliccate in alto a destra dove si è aperta la finestra oppure se lo state invece guardando sul cellulare cliccate in basso subito. Prima dei commenti cliccando su mostra altro vi indicheremo il link.